ore 10 e mezza partenza da tre minuti già siamo al ricovero fondo gelato a 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 infatti guardate solo lui si impantana così guarda ha trovato l'acqua che marcia sei? così dai gas dai gas vai vai gas vabbè peso indietro metti il peso indietro metti il peso indietro non leva mai gas dove cazzo è nato? e il però si Grazie.